salve a tutti oggi vi presenterò una partita giocata nell'ottantaquattresimo assoluto tra ciampi e de grandis questo è il decimo turno e l'apertura è 23 19 11 14 e 22 18 cattura cattura con la 28 qua attacco con 10 13 la principale 26 22 una delle varianti minori e qua il nero cambia con 7 11 la no la mossa principale è 13 17 però 7 11 è comunque pari il bianco gioca 18 14 andando verso il centro creando questa pressione il nero fa 12 15 togliendo una pedina dal centro e attaccando da questo lato il bianco fa 32 28 qui si poteva anche attaccare per il nero e questa sarebbe stata la difesa del bianco per riprendersi il pezzo comunque il nero fa 4 7 comunque buona ora il bianco fa 27 23 qui il nero non potrebbe più attaccare con la 6 10 altrimenti ci sarebbe l'attacco del bianco e qui il nero perderebbe allora il nero fa il cambio 13 18 ora il bianco che attacca da questo punto cercando di farsi spazio il nero deve scappare e fin qui è tutto pari ora il bianco fa la 20 15 ma qui comincia a sbilanciarsi la mossa migliore era 30 27 difficile da trovare il nero si accorge che questo questo pezzo può essere incastrato con un cambio e fa 6 11 ora questo pezzo è in pericolo una volta che si toglie la 28 in 22 infatti il nero fa 30 26 e come già detto 18 22 ora il pezzo sta per essere preso però c'è la difesa con 26 21 con la cattura qua il nero sta meglio e infatti ha una posizione migliore rispetto al bianco e potrebbe tentare anche di vincere però qui il bianco non fa 26 21 ma gioca 14 10 e poi 28 23 l'idea magari pensata poteva essere buona ma qui c'è un problema grossissimo il nero sta andando a dama prima il bianco deve fare delle mosse per andare a dama e qui il nero ha partita vinta completamente vinta il nero adesso va tranquillamente a dama qui ci sono una serie di mosse dove il bianco ha calcolato i tempi infatti qua la dama non riuscirà a prendere il pezzo comunque queste sono le mosse e da qui il nero gioca 11 14 però c'è una variante speciale infatti qua la mossa corretta sarebbe stata 23 20 13 9 e qua 26 pensate se qui il bianco semplicemente fa 95 qua il nero può dare 36 cambio cambio ora la dama deve catturare e cambio quindi questa 26 serviva proprio scusate questa 26 qui serviva proprio per questo per evitare la 95 quindi ritardare ancora di più la damatura del bianco non vedono tutto ciò anche perché è una variante abbastanza difficile e gioca 11 14 poi 13 9 14 19 95 qua 23 20 la dama si sposta facendo spazio al pezzo per una seconda da matura e 52 qui il nero per non aver fatto quella variante vista prima ha perso un po del suo vantaggio però ha sempre la posizione vinta qui è difficile che bianco pareggia a meno che proprio il nero non fa degli errori clamorosi comunque 19 23 il bianco fa 2 5 23 28 qui il bianco si toglie la debolezza sulla 10 perché questa pedina non potrà essere difesa quindi è meglio toglierla e 28 32 ora il bianco gioca la 31 27 vuole portare un secondo pezzo a dama e pareggiare la partita però qua il nero fa 15 27 22 e 59 proprio per bloccare questo punto infatti bianco 22 18 ma come vedete questo questo pezzo non ha spazio la dama deve deve fare spazio da questo punto e il nero in qualche modo glielo può impedire comunque il nero gioca 32 28 qua viene fatta 29 25 qua il bianco in realtà poteva fare 14 19 lasciando lo spazio per far passare la 18 qua il nero doveva stare attento perché per esempio una 20 23 con 19 22 equivaleva a un pareggio e qui cioè la posizione è sempre più pari qui il nero deve fare le mostre giuste ma anche il bianco comunque con 29 25 28 23 qui il bianco può fare soltanto il cambio perché se indietreggia lascia sempre più spazio al nero per attaccare la 18 tipo anche così per esempio anche se ci fosse questa qui ci sarebbe la 13 9 e il bianco tornerebbe appunto di partenza con una sola dama mentre il bia e il nero ne ha due e sta per fare anche la terza comunque qua il bianco decide di fare il cambio ora viene fatta 23 19 26 21 19 14 25 21 il bianco cerca di far camminare questo pezzo per la pari viene fatta 7 11 21 17 pensate qua il nero non si preoccupa di bloccare ma fa 11 15 questo dimostra una conoscenza posizionale incredibile perché qui con 17 13 quasi blocca e la partita è vinta dal nero anche a pezzi vari ma è vinta dal nero comunque non andiamo a vedere tutto quanto e qui è solo questione di poche mosse e il bianco perderà quindi 26 21 qua viene fatta 26 21 25 16 12 qua il bianco non può fare di nuovo 25 21 perché ci sarebbe sacrificio e tiro con questa combinazione ovviamente questa 16 12 serviva proprio per preparare il tiro il bianco se ne accorge fa 25 29 e il nero semplicemente adesso avanza 29 25 19 22 25 29 adesso 12 15 il bianco il nero si ricorda di bloccare questo pezzo per non farlo avanzare di più 29 26 22 27 26 29 27 30 il nero è sempre più bloccato poi viene fatta la 30 26 qua 29 25 e la partita finisce con 14 19 il bianco qua si arrende perché si arrende semplicemente perché dopo il cambio qua il nero è già subito in mossa e bloccherà il pezzo e se non era in mossa qui c'era per esempio mettiamo caso facciamo una mossa a caso no da qui è pari comunque vediamo che se per esempio qua il bianco risulterebbe in mossa sul nero qua il nero può semplicemente fare una mossa di attesa qualsiasi qualsiasi anche questa questa cioè insomma e poi toccherebbe il bianco giusto per farvi vedere comunque partita eccellente da De Grandis veramente una conoscenza posizionale pazzesca dove non ha rischiato nulla nulla in questa partita veramente pazzesco ebbene grazie a tutti per le vostre visualizzazioni per le nuove iscrizioni per i vostri fantastici commenti e noi ci vediamo alla prossima